Il desiderio nostro è di organizzarci contro l'Italia meridionale che ci divora tutti. Così, nel 1880, scriveva a un amico il pittore fiorentino Telemaco Signorini, dopo gli importanti riconoscimenti ottenuti dagli artisti napoletani alla Mostra Nazionale di Torino. In quell'occasione suscitò un gran clamore la scultura di Achille d'Orsi Proximus Tuus, l'immagine di un contadino stremato dal lavoro che sarebbe poi diventata il manifesto dell'arte sociale. A San Domenico Maggiore si inaugura il 31 ottobre la Mostra Il Bello o il Vero, una magnifica rassegna sulla scultura di scuola napoletana fra il 1861 e il 1929, che riunisce 260 opere di 40 artisti provenienti da esposizioni pubbliche e collezioni private. Abbiamo scelto due date in particolare. I due estremi cronologici sono 1861, l'anno dell'unità d'Italia, che per Napoli rappresenta delle grandi novità, soprattutto in sede culturale. E là il 1929, che coincide con la morte di due dei più grandi, dei più straordinari scultori napoletani, Vincenzo Gemito e Achille d'Orsi, e con l'inizio di una nuova stagione, quella del Novecento, perché nel 1929 partono le mostre del sindacato fascista campano, che si omologava alla situazione del Novecento italiano. Il realismo viene adottato dagli scultori napoletani fin dagli anni Sessanta dell'Ottocento, per dar vita a un rigoroso filone che si distacca dall'ideale di bellezza e ritrae il reale nella pienezza della verità. L'avvento rivelatore del brutto nella scultura fu accolto con polemiche e resistenze. Il percorso della mostra si avvale degli strumenti multimediali del Data Bank, alta tecnologia per i beni culturali, per fornire ai visitatori informazioni e stimoli sulle opere esposte. Organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con l'Università Federico II, la mostra Il Bello o il Vero rientra fra le iniziative del Forum Universale delle Culture. Questo che racconta la mostra è un periodo molto proficuo da un punto di vista artistico ma anche intellettuale della città di Napoli. Purtroppo misconosciuto anche a Napoli è poco chiaro all'importanza di questo periodo e soprattutto l'influenza che esso ha avuto anche su tutta quanta la cultura europea e internazionale. Il fatto che poi questa mostra sia accompagnata così vasta, così completa, sia accompagnata da questo imponente impianto tecnologico che quindi è servito non soltanto in fase di costruzione della mostra per monitorare le opere, guardarle, censirle eccetera, ma che oggi serveva soprattutto per fruirle. È una cosa molto interessante e molto importante perché è uno dei primissimi esperimenti che si fa in tal senso in Italia ed è pienamente dentro la logica e il motto che il Forum ha scelto che è The Roots and the Future, cioè le radici e il futuro. La mostra, a ingresso gratuito, resterà aperta fino al 31 gennaio 2015.